buongiorno ragazzi qua fa un freddo cane siamo a campo basso e il l'otto gennaio oggi è il 7 oggi è il 7 gennaio 2017 76 17 e qui ha fatto una grandissima nevicata proprio sotto la befana e adesso guardate quanti centimetri ha fatto avrà fatto una settantina di centimetri ecco se non ci credete e ecco qua adesso sto aspettando di vedere qualche canarino che viene a posarsi qui perché sono già venuti perché poverini gli uccelli qui soffrono il freddo vediamo se arriva qualcuno canarini e piccoli eh io vorrei inquadrare un bel canarino c'è un piccione poverino il freddo si sentono pure i canarini non trova pace non trovo assolutamente pace c'è freddo non so dove andare c'è questo che mi spia per me si vuole dire quanto avanti può farlo eh non è che niente però i canarini c'erano prima sono andati boh non so e vabbè niente i canarini ora concluderei qui questo video guardate quanta neve che ha fatto eccolo qua si trovano pace sti piccioni qualcuno mi entra in casa sicuro a lui stodare guardate